direi che no uno specchio così tipo così illumina anche un po' la stanza e da questa parte c'è la porta quindi chiuderebbe libero solo qua possiamo mettere degli asciugamani adesso l'arancione e poi qua ci andrebbe la lettiera del gatto che è benvenuto in mente oddio lo si è girato crede però non c'è spazio magari lo faccio nel bagno di sopra e manca la luce quindi metterei una luce una luce oddio non so proprio quella che abbiamo usato prima la metterei qua così è anche comoda perché si lava e qua metterei sempre la nostra solita e automatica piantina se me la fa mettere qua però non so se me la fa mettere perché c'è il water quindi è un po' complicato sono sposti tipo qua magari ci può mettere qualcosa eh dai non è male ok per ultimo ci rimane lo scapuzzino allora lo scapuzzino sinceramente non so bene che cosa mettere in questo scapuzzino a parte questo ventilatore forse è inutile boh è probabile che questo scapuzzino sia inutile però io direi di lasciarlo perché è carino da vedere devo solo trovare trovare qualcosa da da mettereci solo che non mi ricordo più come ho trovato questo appendicoso mettiamo anche delle tubature mi ispirano queste tubature che non so vede neanche così male come vediamo ecco ecco sono già spariti dobbiamo far così per favore niente possiamo perle solo così bene questa stanza inutile è stata terminata e abbiamo terminato di un piano di sopra direi di passare quello il piano di sotto direi di passare quello di sopra allora avevamo detto di fare una specie di libreria qua innanzitutto avevo pensato quella specie di vetro quindi quindi dobbiamo andare qui io pensavo di farlo tipo così e poi fare un altro muro ecco bene adesso praticamente o facciamo una specie di vetro io me lo immaginavo proprio come c'è tutto vetro mettiamo le finestre a vetro che secondo me allora è la cosa più diciamo facile da fare mettiamo due qua sarebbe stato bello tutto vetro perché qua c'è sempre quello di un contorno un po' però vabbè non importa il problema è lì che odio un asimmetrico mi dobbiamo metterne uno di questi vabbè non importa noi faremo finta di non vederlo invece qua essendo che è tipo mezzo balcone mettiamo questo proprio e mettiamo sì non intendevo metterlo però tutto fin là come faccio per non farlo mettere fin là è una bella domanda cioè io non voglio metterlo anche qua voglio metterlo solo qua lo facciamo così e poi lo tolgo perché qua me la messo la no ah perché la c'è la stanza praticamente qua proviamo toglierla adesso così e poi rimettiamo la stanza ecco fatto risolto il problema io metterei anche un copriscale non so perché non so perché non lo mettono automaticamente devo sempre farci il muro io a fianco per risolvere il problema però niente questo niente questo lo facciamo in tutti ok direi di mettere tipo quello che ho messo prima almeno non è più asimmetrico o forse potremmo metterlo anche qua ok ok dai lo facciamo così ce l'abbiamo fatto ok questo è il nostro palcone palcone asimmetrico qui ci sarà una specie di insalotto quindi direi di mettere tipo un le librerie qua dentro notare che comunque ci sarà una porta e che magari mettiamo subito così sappiamo già dove mettiamo questa voglio dire che questa ci sta meglio qua ok il divanetto allora il divanetto questo è carino ma mi sa che l'ho già messo giù se non sbaglio dovrei averlo messo ah no qua ne ho messo un altro beh allora cioè si potrebbe mettere anche quello lì o se no c'è anche questo è molto carino e questo è molto carino e niente mi ha preso quello lì mettiamo anche un tavolo magari tipo il tavolo lo mettiamo dall'altra parte non so perché se in realtà questo tavolo è molto carino però scopro andiamo a dimetterne un po' chiaro tipo questo così ci mettiamo una radio tipo di queste antiche sì da notare proprio la distanza tra i due e poi mettiamo anche un cammino nel caso comunque la risalita tipo faccia un po' freddo così perché comunque qua rimarrà sempre aperto quindi mettiamo un piccolo cammino mettiamo così e poi la libreria ho notato appena notato questa questa cosa quindi andiamo subito a sistemarla ecco fatto la libreria la libreria non credo che qua ci stia quindi secondo me sì qua non è proprio il top sto cammino però fai il suo lavoro scatta quel che deve scattare quindi potremmo anche metterlo qui e forse meglio qui un po' bruttino lo so però ci deve stare la libreria quindi la libreria cosa potremmo prendere qua allora una bella una bella libreria di quelle tipo quasi vecchie no io questa è carina però è molto scuro vediamo su ah è più chiaro questo è ancora più chiaro abbiamo un problema con la libreria possiamo metterla attaccata a questo muro perché fa quello che vuole qua ok così qua mettiamo la seriglia ma mettiamo bianca anche questo con una sedia magari potrebbe riprendere quell'azzurro riprende anche un po' l'azzurro del quadro ok il computer direi comunque di fare sempre quelli migliori eh 10.000 madonna non potiamo spese in questo giochino non importa ah questo è super carino ok 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 metterei un quadro giusto per notare che non ho ancora messo una pianta questo è un grande passo avanti allora un quadro un quadro un quadro un quadro un quadro mi spiegherebbe questo ma non c'entra tanto forse no è perché c'è il bianco in realtà ok ok ecco è comunque un po' vuoto ok allora qui abbiamo il corridoio il corridoio che porta bagno e poi stanza quindi per forza bisogna andare nella stanza se no si passa tanto questo specie di piccolo secondo terrazzo però aperto metterei comunque già le porte quindi io metto sempre le solite porte le mettiamo questa questa e questa ok ok Grazie.